Ecco l'animaletto che cerchiamo. L'ultima volta è stato visto da queste parti. Abbiamo appena ottenuto un vestito che il fuggiasco indossava. Fa sentire ai cani il suo odore. Così lo ritroveranno. Darò a ciascuno di voi una ricce trasmittente così sarete in contatto con me. Ricordate, non mi piace perdere. Attenzione perché anche la polizia lo cerca. Nessun guaio con le forze dell'ordine. Intesi? Tra poco sarà buio. Ti accompagno al porto prima che si svegli, mamma. Tu non vai da nessuna parte, Rita. È troppo pericoloso. Resti qui a badare ai piccoli. Per favore. Lo accompagno io, Jungle Jack, al porto. Saltami sulla schiena. Aspetta! Vai via così. Pomodoro blu chiama Ranuncolo. Il fuggiasco è in via del rubinetto. Passo. Ranuncolo chiama sciame d'api. Dirigetevi verso via delle industrie. Muoviti, Pelatone. Gianni! Alpetti, non mi lasci qui! Non posso rischiare, ti danno la caccia in troppi Il porto è da quella parte, corri e auguri